Benvenuti in questo nuovo video! Oggi ragazzi andremo a fare delle ricette per chi è di fretta e non ha voglia di cucinare. Quattro salti in padella, tagliatelle, quattro salti in padella, ai funghi contro porcini. Qui cosa suono? Porcine. Porcini. Champignone e shiitake. Scrivete nei commenti secondo voi se sono più buoni i porcini o i funghi champignone. E poi andremo a fare la sfida con tutte le altre paste, quindi rimanete collegati. Giorno oggi, al prossimo video. Partiamo dal prezzo. Allora, prezzo? 5 euro. 6 euro. 6 euro. Contro? 4 euro. Vabbè, 3,50. Quanti c'ha? Uguare. La quantità sono le solite. 8 minuti in padella oppure 7 minuti in microonde. Quelli della 4 salti in padella. Invece quelli della Coop, 5 minuti in microonde, no, in padella e basta. Solo in padella. Solo in padella quelli della Coop. Allora, vediamo quelli che sono più grassi. Perché noi, che siamo fit, andiamo a vedere. Per pacco, 1.100 kcal. Andiamo di qua. Allora, è la Madonna, è la Madonna. Chilocalorie. 507 per porzione. Quindi 1.000 kcal. Quante proteine ha? Un pacco, a noi ci interessano le proteine. Questo pacco ha, beh, 34 grammi di proteine. Un pasto per una persona media di 70-75 kg. Forbici. Filo d'olio. Forbici. Filo d'olio in padella. Vi consiglio di aprire estremamente al bordo. Parlo per estremi. Profuma. Vediamo come sono. Butto? Butti in padella. Filo d'olio. Due cucchiai d'acqua. Due cucchiai d'acqua, ragazzi. Due bicchieri. Vabbè, padella. Un filo d'olio. Un bicchiere d'acqua. Via. Fuoco medio. L'altro? L'altro 5 minuti, quindi aspettiamo un attimo. Ci devono sciogliere i piaccionini, dentro alla quale ci sono i funghetti. Ma sono funghetti allucinosi, ne? Purtroppo no, altrimenti non avrebbero questo prezzo. 6 euro. Quanti euro? 6 euro. Mettiamo tutto? Tutto. Andiamo ad aprire. Tanto c'è un'altra padella. Sono fatti nella stessa maniera. Le uova le tante. Vediamo anche quello che entra. Entra? Entra? Non può entrare. Non può entrare. No, sono leggermente più sminchiati. È perché sono più sciolti. Entra? Entra. Il profumo è buono? Il profumo è porcini, ragazzi. I porcini vi posso assicurare che sono... Porcini. Alla fine, rivelazione del video, tra i più buoni quelli della coppia che in questa manoviccia. Si risparmia sia per il prezzo che per quantità d'acqua, perché qui ci vogliono due bicchieri di mamma. No. No. Ho capito due bicchieri. Non si rivelazzi anche. Allora, ricordiamoci padella e padella. Cotto. Allora, quattro salti padella pronto. Guardate qua. Che capolavoro. Si scelta. Facciamolo saltare un po'. Allora, ci vorrebbero due piattini. Amici di Telecamera 1, eccoci di nuovo qua. Siamo pronti al primo assaggio. Quattro salti in padella pronti. Metticini e scodellini. E copp pronti. Vai, quattro salti in padella. Poco, perché noi siamo assaggiatori e quindi è gourmet. È gourmet. Ne dici due funghetti. Eh, due funghetti per forza. Allora, dall'aspetto. Guarda, l'odore è invitante, l'aspetto è invitante. Per ora. Non sai cosa ci metterei? Non sai cosa ci metterei sopra? Porchette. Un po' di pietro. No, un po' di formaggio. E no, così. E no, così. C'è chi ci insulterà, ma ditemi se siete team parmigiano o no. Io lo metto buco. Ma così non... Eh, lo so. Devi assaporare il gusto. Vai. Questo è quattro salti, eh. Ricordatevi che le faccio quando entra dentro il cibo, si vengono. Io ve lo dico, sono buoni. Non male. Ti devo dire, ti devo dire. Sono buoni. E tanto male la situa non è. Con un goto di parmigiano è la fine. Sette e mezzo. Ci sta, ci sta. Ora poi diamo i voti. Io... Eh, un sette e mezzo ci sta, dai. Sette e mezzo. Sette, sette e mezzo ci sta. Ora però andiamo a testare lo sfidante. Copp. Copp. Guarda, sono più grosse. Qua i funghetti se li sono dimenticati. Però sono più grosse le tallette. Sì, ma si sono dimenticati i funghi. Ecco, i porcini costa anche aria, ragazzi. Poi non è stagione. Com'è il profumo? Però l'odore lo sento più forte. Ebbene, i porcini? Più forte. Allora, attenzione. Ricordiamoci il sapore di prima. Andiamo a forchettare. Bruciano troppo, non riesco ancora. Cioè che... Otto? Cioè che... Otto? Se non fosse per gli... Se ci avessero messo inesistenti, gli stessi funghi di là, Non c'erebbe questo. Aia. Allora, più cremosa, mi piace di più la tagliatela più spessa. La tagliatela più grossa, più spessa. L'unico difetto è... Niente funghi. Quindi perde un punto solo per quello. Quindi 7. Non ci sono funghi. 7. Per me è un 7. 7 e 25, dai. 7, dai. Solo perché non c'è i funghi. Leda è esperto di 4 salti in padella. Leda è appassionato di 4 salti. Eh, non può... Non può perdere 4 salti. Vado su 4 salti. Però... Non male. Perché non c'ha funghi. Ci avessero messo più di funghi. Non male. Scrivete nei commenti se avete assaggiato, se le mangiate, se non le mangiate. Se siete d'accordo con i nostri paletti. Esatto. Questi sono i nostri... Un bel pollicione in su. E ricordatevi che se arriviamo... Quanti like? A 30 like. 50. 30, dai. 100. 30 like. A 30 like facciamo 4 salti contro la nostra pasta e funghi. E ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Comunque vincitrice, 4 salti padella che si sfiderà contro... Eh. E se è lunga. E se è lunga. E se è lunga? E se arriviamo a 200 like mi mangio due buste interi. 200 like e due buste. Attenzione ragazzi. Man vs food. Man vs food. Un chilo e 100 grammi di pasta al sugo. Mi lasciate like che ha lanciato la sfida. Ci vediamo al prossimo video.